Oggi parliamo di Backbone. Che cos'è Backbone? Beh, è un controller per smartphone, ma non un semplice controller. In realtà è un dispositivo che, come potete vedere, si va a integrare perfettamente al vostro dispositivo mobile e renderlo praticamente una vera e propria console. Difatti non è un semplice controller Bluetooth da accoppiare al proprio telefono e poi andare lì a cercare qualche accrocchio per tenerli uniti insieme. Stiamo parlando di un dispositivo che ha la porta Lightning per quanto riguarda iOS o la porta USB-C per quanto riguarda Android e andremo a installare lo smartphone all'interno proprio di questo dispositivo che non ha bisogno di alcun tipo di connessione Bluetooth per funzionare perché tutti i dati verranno trasmessi tra controller e telefono proprio attraverso la porta Lightning o USB-C che sia. Questo ha due enormi vantaggi. Il primo è l'assenza di input lag. Difatti non avremo i limiti della connessione Bluetooth per quanto riguarda il trasferimento di input al gioco. Il secondo è che non ha una batteria quindi non avremo un ulteriore dispositivo da andare a caricare. Insomma non confondetelo con un semplice controller di quelli che troviamo in mercato. Un altro punto di forza di questo dispositivo è che va ad aggiungere una porta Lightning per la ricarica durante l'utilizzo quindi nonostante noi stiamo occupando la porta principale dello smartphone possiamo comunque caricare il dispositivo o giocare col telefono alimentato ma anche un bel jack per microfono cuffia che nelle sessioni di gioco perché no può tornare utile nei momenti di gaming online o quantomeno. Attenzione però come vi ho detto utilizza la porta Lightning e come noi tutti sappiamo i successivi iPhone 15, 15 Pro, 15 Ultra e 15 Plus avranno l'USB-C per cui se avete in programma di upgradare il vostro smartphone con porta Lightning attenzione perché probabilmente questo dispositivo da settembre in poi per quanto riguarda gli iPhone 15 potrebbe non essere supportato non credo si possa fare qualcosa con adattatori perché si incastra perfettamente quindi dubito che si potrà utilizzare un adattatore Lightning USB-C quindi se avete in previsione di cambiare telefono e dare via quello con la porta Lightning e non utilizzarlo esclusivamente per questa piattaforma attenzione mentre invece per quanto riguarda la versione Android USB-C e quindi lì c'è uno standard sicuramente molto più diffuso e non dovreste avere alcun tipo di problema ma attenzione questo backbone ha una caratteristica davvero particolare e quasi unica nel mercato difatti è un prodotto sotto licenza ufficiale Sony questo che cosa vuol dire come noi tutti sappiamo per quanto riguarda lo streaming tra PlayStation 5 o PlayStation 4 verso uno smartphone non possiamo utilizzare pad terze parti quindi saremo sempre comunque costretti a utilizzare un DualSense per giocare in streaming dalla console principale questo è un problema per la maggior parte degli utenti iOS su Android ci sono delle applicazioni terze parti che aggirano questo problema sono delle applicazioni a pagamento ma tant'è diciamo che si riesce ad aggirare mentre invece su iOS purtroppo per giocare in streaming da PlayStation 5 verso il proprio smartphone casomai mentre siamo sdraiati nel letto o comodamente nel nostro salotto dovremo per forza utilizzare al momento un DualSense o un DualShock 4 più lo smartphone e tenere insieme ai due dispositivi in qualche modo questo controller qua invece viene pienamente riconosciuto dalla PlayStation app proprio come se fosse un DualSense e nel mercato è davvero uno dei pochi questo potrebbe rendere veramente ai limiti del superfluo un eventuale PlayStation Q che appunto non avrà alcun tipo di limitazione però quello è un altro discorso devo dire che la qualità costruttiva è davvero buona e anche il meccanismo che si occupa di divaricare i due controller per alloggiare in mezzo lo smartphone non dà mai quella sensazione di qualcosa che possa andare a rompersi facilmente nel tempo è fluido ha una bella molla di rientro io lo sto utilizzando da diversi mesi e devo dire che non ho mai sentito una variazione nella resistenza questo mi fa presupporre che effettivamente questa slitta sia costruita con cura e sarà anche abbastanza resistente nel tempo per quanto riguarda il feed dei tasti ottimo soprattutto la croce direzionale mi piace veramente tanto i tasti sono molto uno zero nel senso che hanno una pressione molto netta sentiamo proprio il tasto che fa il click questa è una cosa che può piacere alcuni può dispiacere ad altri a me piace particolarmente perché mi dà un ottimo feed quasi da tastiera meccanica mi verrebbe da dire ovviamente con un'escursione sicuramente più bassa per quanto riguarda gli analogici allora la sensazione generale degli analogici è quella di avere a che fare con praticamente lo stesso hardware che monta nintendo switch anzi vi dirò di più in generale quando utilizzo questo dispositivo mi sembra veramente di avere tra le mani i joy con di switch come feed dei tasti degli analogici eccetera eccetera molto interessante anche il fatto che i grilletti sono di tipo analogico però devo dire che ancora una volta ci troviamo davanti a degli analogici per quanto riguarda i grilletti con un'escursione forse un po breve e leggermente morbida per i miei gusti ho provato qualche gioco di guida e devo dire che non riesco a essere minimamente preciso come con un controller classico diciamo però ci sono nella maggior parte dei casi vanno bene è una questione di abitudine ma sicuramente si poteva fare di meglio per quanto al momento io ho trovato soltanto rog all'ai avere dei grilletti veramente paragonabili a quelli di un controller nella maggior parte dei dispositivi sul mercato questo problema si presenta che poi è un problema di abitudine che si fa sentire in maniera pesante solo su alcuni giochi la mia versione è quella per iphone quindi ho provato praticamente tutti gli iphone dal 10 in poi molto facile inserire lo smartphone per poterlo utilizzare basta centrare la porta lightning tirare su e lui calza alla perfezione è abbastanza stabile in realtà in qualche occasione mi si è un pochettino spostato ma davvero situazioni molto concitate però in linea di massima come vedete il dispositivo resta sicuro non mi è mai capitato di far cadere lo smartphone per un problema di costruzione o quant'altro vi devo far notare però una piccola cosa per quanto riguarda questo dispositivo ovvero il fatto che per 13 13 pro 13 pro max 14 14 pro 14 pro max bisogna aggiungere questo gommino nella nel controller state tranquilli nel 90 per cento dei casi lo trovate all'interno della confezione qualora non fosse presente nella confezione già durante l'installazione di questo controller mentre andremo nell'app vi verrà richiesto se volete riceverne uno gratuitamente a casa io per vedere se effettivamente mandassero queste cose a casa ma non dite la backbone perché io ce l'avevo già in confezione effettivamente ho fatto richiesta di questo gommino di supporto questo gommino che serve per i modelli 13 14 come vi dicevo prima ed effettivamente dopo aver mandato l'indirizzo e fatto richiesta dopo un paio di settimane neanche tanto tempo mi è arrivato il gommino di supporto quindi state tranquilli che a prescindere da quanto tempo hanno in magazzino il dispositivo riuscirete senza alcun tipo di problema a utilizzare praticamente qualsiasi iphone presente sul mercato dotato di porta lightning tornando a parlare dei tasti come vedete è completo a tutti i tasti incluso quello dedicato agli screenshot in game e dall'altra parte abbiamo anche il tasto home che per me è un piccolo problema di questo dispositivo sia chiaro il tasto in sé non è un problema è davvero comodo con la pressione di un tasto tornare alla home dello smartphone ma il problema è che non torna solo alla home ma apre la companion app di questo dispositivo questa companion app altri non è che una sorta di raccoglitore di tutti i servizi disponibili tipo xbox cloud tipo playstation store quindi per giocare streaming da playstation manca inspiegabilmente geforce now non capisco il motivo altri modi e scorciatoie di trovare giochi che poi potremo andare a scaricare con apple arcade o nello store di google nello stesso store di apple insomma è fondamentalmente una dashboard dedicata a chi utilizza questo controllo e onestamente l'ho trovata anche un po caotica se devo essere onesto quindi è anche migliorabile ma il problema non è questo il problema è che questa applicazione costa 40 euro all'anno signori voi non mi potete far pagare 40 euro una dashboard per il vostro prodotto e sebbene viene regalato un anno di prova per chi acquista questo controller senza ombra di dubbio finito quest'anno io non ho la benché minima intenzione di andare a rinnovarla perché non è fondamentale fortunatamente brava backbone perché se no sarebbe stato scandaloso ma dall'altra parte dico anche che è superflua cioè mancano addirittura dei servizi in questo listone che ci permette di sfogliare i giochi col controller avendo il touch direttamente qua davanti così non sento neanche così l'utilità di andare a utilizzare con controller dispositivi come gli smartphone che già sono ottimizzati per essere utilizzati con le dita cioè non è come windows 11 che poi ha bisogno di del launcher per funzionare bene con le dita quindi la trovo veramente superflua e trovo sciocco il fatto che la venga che venga venduta a un costo di 40 euro l'anno questa a me sembra veramente una grandissima l'han detto loro youtube l'han detto loro io monetizzo ok io vi ho parlato di questo dispositivo ma tiriamo un po di considerazioni finali come mi son trovato cosa ne penso alla fine di questo controllo devo dire che è davvero estremamente utile e bello per chiunque gioca in mobilità perché seppur è vero che noi possiamo utilizzare un controller bluetooth con vari accrocchi andremo a perdere l'immediatezza che ha questo dispositivo e soprattutto andremo a perdere la praticità e la trasportabilità cioè ficcare in tasca piuttosto che in uno zainetto un controller più il lo smartphone è abbastanza scomodo poi serve l'accrocchio per tenerli insieme almeno che non siete psicopatici o avete quattro braccia e quindi riuscite a tenere smartphone che controller contemporaneamente questo è sicuramente qualcosa che è molto più pratico e ha dalla sua quella funzionalità playstation che effettivamente è tremendamente utile perché rende a tutti gli effetti questo controller più uno smartphone una sorta di playstation q che dovrà uscire da qua a non so quando quindi se ad esempio siete alla ricerca di un dispositivo che renda un all in one il vostro smartphone per giocare con playstation streaming xbox cloud x cloud o perché no con i giochi smartphone con ad esempio apple classic scusate apple arcade con i giochi google che comunque parliamoci chiaramente non siamo più nel 2012 e il mercato degli smartphone tutt'oggi tira fuori dei giochi veramente validi ed è estremamente piacevole poterli giocare con un controller controller che funziona veramente molto bene ripeto l'esperienza finale quando noi andremo a giocare con i nostri titoli è proprio molto simile a quella che troviamo su switch ma con un display più grande no più piccolo oddio è praticamente l'esperienza switch che abbiamo con una switch light anche se c'è da sottolineare che a livello di controlli io comunque preferisco questo perché abbiamo la croce direzionale abbiamo in linea generale secondo me un feed migliore rispetto a switch light quindi dobbiamo essere dei videogiocatori consapevoli che comunque stiamo andando a giocare con display piccoli e qua aprirei una piccola parentesi fate molta attenzione se non siete dei possessori di dispositivi max o plus perché se dovessimo andare a giocare non tanto ai giochi mobile ma quanto ai giochi diciamo un po più console quindi se volessimo giocare streaming da playstation o con x cloud streaming da xbox o streaming da che ne so da steam per esempio con determinati giochi l'ampiezza del display fa molto quindi dovete essere consapevoli che avete un'esperienza portatile al 100% e se siete amanti di determinati titoli che possono essere che ne so dei gestionali degli strategici o comunque in generale titoli che hanno menu con molte scritte e c'è tanto bisogno di avere a che fare con un user interface per quanto riguarda il gioco con un hud continuo avere un display così piccolo potrebbe infastidire però ripeto a livello di dimensione li dipende un po dal vostro smartphone però siamo più o meno come una switch light black bone rispetto ad altri controller che si integrano sempre allo smartphone è proprio il plus di avere la piena compatibilità sony che solitamente gli altri controller non hanno ed è praticamente impossibile almeno su ios utilizzarli con l'app sony quindi lì probabilmente avrendo uno schermo più grande sarà diciamo migliore perché secondo me arriviamo alla dimensione adatta e perfetta attualmente per un'esperienza portatile che è ovvero quella da 7 8 pollici per quanto riguarda invece un altro aspetto che non mi è piaciuto particolarmente e la vibrazione l'ho trovata molto morbida ed effettivamente una volta collegato questo dispositivo non dico che consumi siano alla pari di un controller bluetooth che consuma sicuramente di più però effettivamente ho notato un drenaggio della batteria maggiore quando questo dispositivo è collegato fortunatamente però come vi ho detto si può mantenere sotto carica ci ho giocato codici ho giocato diversi giochi e mi sono comunque trovato sempre bene insomma per me è un gran prodotto e il fatto di essere compatibile con sta maledetta playstation app di sony che ancora oggi mantiene chiuso il proprio sistema e dual sense e dual shock 4 ne fa un vero e proprio valore aggiunto ricordatevi sempre però di fare attenzione se avete intenzione di di upgradare iphone 15 con l'usb c perché questo dispositivo probabilmente in futuro potrebbe non essere più supportato da quello smartphone dagli altri ovviamente sì per quanto riguarda invece i giochi mobile nulla da dire quelli sono già ottimizzati per stare su display diciamo contenuti quindi non ho trovato alcun tipo di problema e lì è veramente un gran valore aggiunto avere un dispositivo di questo tipo diciamo che alla morte sua è il gioco mobile cioè lì diventa veramente imbattibile e difficile non consigliarlo per quanto riguarda i giochi console eccetera eccetera come vi ho detto occhio ai vostri generi preferiti perché su determinate tipologie di giochi lo schermo particolarmente piccolo di uno smartphone potrebbe dare fastidio a più di una persona ma per quanto riguarda lui per me un ottimo lavoro e complimenti a backbone per aver stretto un accordo con sony che effettivamente serviva soprattutto nel panorama ios signori grazie di cuore a tutti per aver visto questo video noi ci vediamo come sempre con un prossimo video ciao ciao